no l'audio no mi deve raggiare a me c'è no ragazzi c'è un stream proprio quello che è lag e che cazzo vuoi partire c'è 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 ragazzi ho dovuto fare questo questa cosa perchè sennò raga non va non va proprio certo vedrete la barra sotto metto no lag la 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 modalità aspetta c'è ecco come si vece vedete la tablet se mi ricordo come si fa vabbè non non capisco perchè mi laghi la live così tanto però c'è ma è strano mentre non lo stremo più forte è ma è già inizio a fare cosa c'è la prima iniziale non posso dire certo fa niente devo capire ciao non posso stremmare in questo momento no ciao ciao